ciao ragazzi qui è b1 che vi parla benvenuti stasera alla vigilia vi presento un bella pietanza di gamberoni vero chef e queste gamberoni con fettina di limone un po di sugo marinata bellissimo guardate guarda che spettacolo guardate guardate guarda solo il sugo mi fa venire l'acqualina e poi un gamberone che ragazzi me lo so fatto portare dalla norvegia direttamente dalla norvegia guardate qua l'importatore è stato così gentile da mandarmelo col corriere direttamente dalla norvegia cosa impressionante bellissimo bellissimo veramente guardate qualche eccezione guarda qua poi bella filtrare le di ag fatta dalla nostra chef poi dopo di che ci siamo allegrati con una bellissima insalatina di mare con polipi su primi e pezzemolo bella veramente ragazzi comunque sia è uno spettacolo veramente dolce guarda qua e che gamberone che gamberone si muovono ancora nel piatto sono ancora belli vivi anche se morti comunque ragazzi chi chi vuole continuare nel percorso gastronomico di b1 vi consiglio di cliccare sulla destra e seguirmi e aspettare la prossima avventura ciao ragazzi